Dal comandante all'ultimo degli agenti, Cortina è nuovamente nella bufera dopo che la Guardia di Finanza ha denunciato per peculato ben 19 vigili urbani. A vario titolo, in varia misura avrebbero trattenuto i proventi delle multe fatte, versandoli con molto ritardo nonostante le ripetute sollecitazioni della ragioneria comunale. Le indagini del nostro nucleo di polizia tributaria hanno portato a segnalare alla Procura della Repubblica numerosi agenti della polizia locale di Cortina d'Ampezzo. Alcuni casi piuttosto clamorosi, tipo quelli di un agente che per quasi quattro anni non ha versato migliaia di euro, arrivando alla fine dei quattro anni ad avere un debito nel confronto del comune di quasi 7 mila euro. E chi doveva controllare non l'ha fatto e così gli investigatori della polizia tributaria hanno segnalato anche loro. Però messa a denuncia di questo metodo consolidato, le indagini hanno vagliato gli ultimi dieci anni, le fiamme gialle hanno denunciato all'autorità giudiziaria anche. Andrea Franceschi, sindaco sospeso e con divieto di dimora a Cortina, l'ex assessore al patrimonio Marco De Biasi, l'ex segretario comunale Agostino Battaglia e tre funzionari. Il fatto era conosciuto ed è andato avanti per un certo periodo di tempo senza che il fatto venisse denunciato alla Procura della Repubblica o alle forze di polizia. L'indagine è uno dei tanti filoni avviati dopo le perquisizioni del maggio 2012. Come spesso avviene quando si finisce per indagare su uffici pubblici da un fatto magari apparentemente banale, poi vengono fuori un po' alla volta tante altre, chiamiamole, magagne. Il reato contestato ai vigili, qualcuno oggi è in pensione, è il peculato. Nel momento in cui un agente, qualsiasi forza dell'ordine riscuote una somma, una multa diciamo così da un trasgressore per il codice della strada, il denaro non è di proprietà appartenente alla forza dell'ordine ma è subito di proprietà dello Stato. Se quindi non viene versata nei termini previsti diventa automaticamente peculato.